Era appena stato assunto come operaio addetto alla manutenzione dei tetti da una ditta di Ragusa, ma un volo da 12 metri di altezza ha stroncato la sua vita e tutti i suoi sogni. Una tragedia assurda, quella costata la vita all'operaio niscemese Roberto Savasta, 27 anni, che era rientrato in Sicilia dopo un periodo di lavoro in Francia. Il giovane stava lavorando sul tetto del magazzino di stoccaggio di un art discount di Val Guarnera, in provincia di Enna, quando a un certo punto ha perso l'equilibrio ed è precipitato nel vuoto. I traumi riportati nella caduta sono risultati fatali. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno messo sotto sequestro l'area per eseguire i primi rilievi. Toccherà adesso agli investigatori, coordinati dalla procura ennese, ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare se siano state rispettate le condizioni di sicurezza sul lavoro.